Rap, riuso, rap, è proprio tanto bello risciclare con il rap Rap, riuso, rap, sei forte, sei un mito, sei il meglio che c'è Se la fai differenziare, risciclare, riusare Non avrai preoccupazioni, niente, più mai rifiutoni Mi piace risciclare, se risciclare con il rap E' un modo simpatico ed originale per fare proprie le regole della differenziata E comporlo in un motivetto rap Accolti dal sindaco Luigi De Magistris, i piccoli alunni del ventunesimo circolo didattico Mameli Zuppetta si sono esibiti in un ritornello ispirato ai temi del riciclo e del rispetto dell'ambiente Questo rap per l'ambiente è una creazione dei bambini della quarta F del ventunesimo circolo didattico Che si sono mostrati sempre molto attenti al problema principale di Napoli Che è quello dei rifiuti Bottigline, bottigliette, metti nel bilone a parte Le lattine e la lumina, non sono mica bustecate Se qualcuno chiede a me dove butto l'MP3 Io gli dico non giotarlo, corri presto a ripararlo È la dimostrazione che una risata ammazzerà i problemi di Napoli Devo dire che il Mameli Zuppetta, la scuola che vedete qui È una delle realtà più importanti del quartiere Colliaminei Cioè loro lavorano moltissimo sul territorio Lavorano bene, hanno l'appoggio della famiglia Per cui è su questa scuola che bisogna investire Grazie